Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi domenica 15 gennaio su notizie importanti dei giornali di oggi. Diciamo che la notizia fondamentale di oggi se la cucca la Repubblica con un'intervista interessante, anche se moschetta, non di quelle che danno i titoloni, del ex presidente del Consiglio Matteo Renzi all'ex direttore di Repubblica, un'intervista tra ex all'ex direttore di Repubblica Ezio Mauro, sulla Repubblica ovviamente. L'intervista è moschetta tant'è che il titolo della Repubblica è un po' complicato perché io, la sinistra e i miei errori, così cambierò il partito. Questo è il titolo in prima pagina della Repubblica, vi direi subito che quando un titolo è fatto così, io, la sinistra e i miei errori, si capisce che gran notizie non ce ne sono. Vediamo un po'. Mi sono dimesso tre volte, dice Matteo Renzi, così per dare il senso che una cosa che assolutamente è condivisibile con lui, che in Italia ci si dimette poco. Ha detto che mi sarei dimesso anche se avesse preso il 49% al referendum e non il 41% come è avvenuto. Mi sono dimesso la prima volta domenica, il giorno dei risultati, ed è vero perché me lo ricordo in diretta a Matrix, la seconda volta da Mattarella e poi è implicito quando Mattarella mi ha detto di portare a casa la legge di bilancio, ho fatto la legge di bilancio e poi con 175 voti a favore al Senato e poi mi sono dimesso. Poco importa che si sia dimesso tre volte, se ne è dimesso una quanto basta in un paese in cui non ci si dimette molto. E' anche molto vera, poi arriviamo alle critiche, non vi preoccupate alla intervista di Matteo Renzi. E' anche molto vero quello che dice riguardo al voto. Perché dice, e su questo c'è una logica in quello che dice Renzi, e cioè dice ma scusate mi spiegate una cosa, com'è possibile che il 59% degli italiani si dice che abbiano espresso un voto politico contro Renzi e quindi il voto è politico di quel 59% e invece il 41% che ha votato a favore del referendum. E no, quello è un voto per il referendum e non per Renzi. In questo lui ha ragione, o vale per tutti il ragionamento del voto referendario, cioè un voto che vale più per Renzi che per il referendum o vale soltanto per alcuni. Insomma io l'ho trovato considerevole. Sua, tra gli altri errori, dice meno slide e più cuore. Questo potrebbe essere lo slogan del mio errore fondamentale. E iniziamo qui un po' a slittare nella personalità di Matteo Renzi e cioè fuori di dubbio che meno slide e più cuore forse erano fondamentali. Ma questo non riguarda gli errori nella gestione della cosa pubblica, questi riguardano gli errori nella sua comunicazione. Il cuore è quello che c'è. Come diceva lui, uno non se lo può dare il cuore, citando Manzoni. Uno il cuore o ce l'ha o non ce l'ha. E lui diciamo che è discretamente senza cuore. Il punto quindi era soltanto di comunicazione. A Mauro che lo incalza sulle questioni fondamentali, sul giglio magico, sui suoi errori nelle banche, ecco su quello Renzi invece è intransigente. Cede un po' sulla comunicazione, cede molto poco sulla questione del giglio magico. E prova che il giglio magico è fatto da persone sacrosante, è il fatto che sono state confermate da Gentiloni. Ma questo è un po' tautologico, vengono confermate da Gentiloni perché è quello ancora il segretario del partito di maggioranza che supporta Gentiloni. È del tutto normale che rimangano lì le persone del giglio magico, che non sono tanto boschi e lotti, ma sono certamente la Mansione e altri gran comì che lui ha piazzato nel governo. Ultima cosa che riguarda questo genere di persone, ovviamente questa la conosco bene, è la risposta che da sempre quando lo si rimprovera della nomina di Campodallorto alla guida della RAI. E ovviamente Ezio Mauro che ha la sua parrocchietta dice che ha fatto fuori due grandi professionisti come Berlinguer e Giannini. Ovviamente sono gli unici professionisti che ha fatto fuori secondo Mauro, simpatia Mauro. E lui però, Matteo Renzi, tra i due, tra Mauro e Renzi, continuo a preferire Renzi, e Renzi gli risponde che comunque insomma in maniera sempre un po', come si possiamo dire, un po' equivoca che Campodallorto era uno del mestiere, se visto che mestiere. Sul fatto dell'andare a votare, ovviamente poi quando è la risposta forse più interessante di tutta l'intervista, per noi che non siamo degli addetti ai lavori e che, come abbiamo detto ieri, a noi di retroscena ci annoiano, ci smosciano, dice che non c'è grande fretta. Anche Renzi, non so se lo dica perché ci crede o non ci crede, dice che non c'è grande fretta di andare a votare. E' anche vero che però lui la legge elettorale l'ha detta chiaramente come la vuole, o il ballottaggio o il mattarellum, che è più o meno la stessa cosa, perché nella stesso collegio ci si va al scontro tra due o tre di partiti diversi. Vi ho detto delle banche, anche qui un pochino, se volete, è un po' esagerato quando dice che è tutta colpa del referendum, il fatto che abbia costretto il governo a mettere 20 miliardi, secondo me è un po' ottimista metterla bene Renzi sulla questione che deriva dall'instabilità derivante dal referendum la necessità di avere 20 miliardi sulle banche ed erano necessari ugualmente. Divertente, come sempre, lui su questo è un battutista il fatto che il Movimento 5 Stelle è un algoritmo e non un partito politico e quello è il vero nemico oggi di Matteo Renzi. Non so se ha fatto bene o ha fatto male, ma comunque Ezio Mauro non gli ha fatto domande su quali possono essere le... Charlotte, parlo di Renzi, perché fino a prova contraria è il segretario di un partito che verrà votato dalla maggioranza degli italiani. Matteo Renzi è quello. E' come quando alcuni di voi mi dicono chi è Saviano, che peraltro cita Renzi perché nel suo panteon torna Saviano sulle critiche fatte al mezzogiorno, quindi pensate voi quanto mi sia simpatica questa dichiarazione. Il problema è che ci sono dei personaggi che possono piacere o non piacere, ma esistono. Esiste Saviano, esiste Renzi, esiste De Luca, esistono tante persone. Cioè, secondo me, chi è detto oggi a Renzi è come quello che non voleva considerare l'esistenza di Berlusconi fino a vent'anni fa. Andiamo avanti. Trump. Beh, su Trump la cosa incredibile è l'inserto di Repubblica, questo Robinson che non ho ben capito che DNA abbia. Ma comunque, in prima pagina c'è la foto di una bella ragazza in bianco e nero che apre una rivista in cui si dice la rivista resistere. Allora, io quando vedo quella bella ragazza che dice resistere capisco perfettamente perché hanno perso, perché perderà Trump, perché perderà Renzi, perché perdono quelli di Repubblica, perché parlano soltanto pensando che una bella gnocca come quella che hanno messo lì sia il simbolo della resistenza a Trump che viene votata dai minatori del Wisconsin, dagli operai della Ford, ma che c'entra la modellina in bianco e nero sofisticata che piace al New York Times. Altre dieci modelle potranno piacere a me, non a Renzi, non a Mauro, non a Calabresi, ma non soprattutto ai grandi elettori che se ne fottono di questa idea patinata di una che legge la rubrica e la rivista resiste. Il PD è al 30%, assolutamente il PD è almeno al 30% secondo i sondaggi di oggi. Sul contro Trump, che è la settimana di Trump perché giurerà il prossimo venerdì, ci sarà anche l'insediamento, ci sarà l'insediamento, c'è il pezzo di Alessina, quindi il punto vero è che Trump è bloccato sia a destra sia a sinistra, mettiamola così, perché da una parte i fighettini di Repubblica lo odiano e con quelli del New York Times fanno l'insetto Robinson contro Trump e dall'altro i liberisti che a me stanno molto simplatici come Alessina nella prima pagina del Corriere della Sera dicono che è un'illusione che Trump sia un nuovo Reagan. Io dico ragazzi, può essere, probabilmente da quello che ho detto sono d'accordo con voi, ma la Clinton vi piaceva di più? Hillary Clinton? Cari Alessina, Luigi Zingales e tanti amici liberisti che... perché purtroppo voi economisti ci avete spiegato a noi il second best, anche io vorrei Milton Friedman, ministro dell'economia e Antonio Martino, ministro dell'economia in Italia, a parte il fatto che a voi non ve ne fotte nulla, ma in realtà purtroppo non è così, la politica non è fatta dai professori e questo forse grazie al cielo, è fatta da persone che pragmaticamente devono prendere i voti e rispettare questi voti, quindi vediamo se questo atteggiamento sia così giusto. Zingales oggi prende un altro tema molto interessante, è la Francia si sta difendendo sul fatto che Fincantieri, un'azienda italiana acquisisca i cantieri di San Nazare e dall'altra parte la Francia ha comprato, come si sa, tante cose in Italia. Ci sono due cose che dice, si può fare ora la diplomazia europea, dice Zingales, che è il modo migliore, cioè cercare di mettere regole comuni perché non ci siano ostacoli statali all'acquisto infranazionale e l'altra sia invece di creare delle difficoltà politiche che, ricorda Zingales, hanno sempre aiutato Berlusconi quando fece all'Italia, quindi aiuto a Toto, insomma un po' dietrologo su questa cosa, ma ovviamente i due atteggiamenti sono esattamente quelli di chi dice Zingales. È tutto vero, ma c'è un piccolo dettaglio che tutti si dimenticano in questa vicenda, non mi sembra di averlo letto. La società italiana che compra quella francese e quella francese viene difesa dallo Stato francese, la società francese è comprata da una società italiana che è pubblica, come la Fincantieri. Quindi i liberisti dovrebbero dire, ma se una società pubblica compra un'altra società e forse quell'altra società non siamo proprio in uno di quei mercati liberali di cui si parla grandemente. Va bene, io direi che... ma che ero del PD? Maria Nicola, ma tu eri del PD? Io... basta salvare l'Italia, dice Letizia. L'ultima cosa favolosa, ghiacciati i quadri di Brera, quindi l'Italia che non funziona nei riscaldamenti, non è solo quello delle scuole al sud non abituate al freddo, ma anche dei musei che dovrebbero essere abituati al freddo, ministro dell'economia, qua parlano di Magnai, Maria Silvia, ancora un grande seguito. Io direi che sui giornali di oggi c'era tanto altro, ma i dieci minuti sono passati, anzi sono fatti troppi oggi, è domenica, riposatevi e leggetevi un articolo che ho pubblicato io oggi sul giornale se avete voglia, lo trovate su internet di Luigi Enaudi che nel 1907 diceva per quale motivo la frode fiscale ha una sua ragione. vi sembrerà incredibile? Lo trovate sul giornale. Ciao! Anzi, ora che mi ricordo, se avete niente da fare, andate su Amazon e comprate La disuguaglianza fa bene, anche in ebook che costa pochissimo. La disuguaglianza fa bene! E certo, meglio Fommises Tony, ma lo conosciamo in quattro Fommises e sulla disuguaglianza fa bene. Questi dicono le parolacce, insomma, è la solita storia della rete. Bene 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 bene, saluti a tutti quanti, buona domenica a tutti quanti, noi ci vediamo domani come sempre, ciao!